Penso che sia fondamentale per noi il senso di appartenenza, perché grazie al senso di appartenenza riusciamo a frondeggiare quelle che sono le richieste del mercato e trasmettiamo ai nostri clienti questa sicurezza, questa affidabilità. Oggi è un mercato veloce e noi dobbiamo essere veloci a dare le nostre risposte e solo così, sentendo questo forte senso di appartenenza, riusciamo a trasmettere i nostri valori ai clienti e farli stare sicuri. Noi non identifichiamo il fornitore, per noi il fornitore è un'estensione di Boston Dips, deve essere un nostro partner più che un fornitore, un fornitore può essere momentaneo, un partner invece inizia un percorso continuo con noi e deve avere i nostri stessi ideali, perché noi ci si identifica nel fornitore, diventa un 8.1 Boston e fornitore. Una grande società che mette sempre al centro della loro cultura, la persona, questo è fondamentale per noi, avere dei rapporti diretti, quindi creare, costruire insieme e avere delle idee su come andare dritti sul nostro obiettivo, un obiettivo comune, migliorarci, migliorare insieme, crescere insieme, crescita in tutti i sensi, non solo vantaggio economico, l'affidabilità economica, ma proprio quella di crescere, di avere nuove idee, nuovi progetti, nuovi sviluppi, perché è un dare avere continuo, non è che ci si ferma solo dal fornitore, ma noi a nostra volta siamo dei fornitori per i nostri clienti, noi cresciamo insieme ai nostri clienti e vogliamo che i nostri fornitori crescano insieme a noi, opportunità di sviluppo. Grazie a tutti.